Viva l'Agrado! Viva l'Agrado! Viva l'Agrado! Caria dobbiamo espirare, qualcosa dobbiamo bere, ci siamo stufati di questa... Ci siamo rotti i polmoni, si legge sui cartelli dei ragazzi milanesi in piazza per manifestare a favore della tutela ambientale. Una marcia promossa a livello internazionale dalla sedicenne attivista svedese Greta Thunberg con l'hashtag Fridays for Future. Il corteo, partito dal Largo Cairoli, nel corso del tragitto si è via via ingrandito e secondo gli organizzatori ormai sarebbero 30.000 i partecipanti. Questa è la più grande piazza studentesca che Milano ricordi. Nessun partito ci rappresenta perché nessun partito ha mai fatto nulla per l'ambiente, hanno rivendicato i ragazzi. Lo studente paura non le ha!